gentili telespettatori benvenuti al trailer del canale in questo piccolo spazio ci occuperemo interamente di numismatica e come potete vedere alle mie spalle unicamente di monete d'argento ogni video andrà a trattare una singola moneta nella sua interezza in cui andremo a vedere il suo valore al momento dell'emissione come retto all'inflazione nel tempo il suo valore di fusione in argento e altre piccole chicche storiche se pensate di essere interessati al progetto vi invito ad iscrivervi al canale in quanto verranno emessi video su base assolutamente non regolare totalmente arbitraria e in cui appunto vi farò conoscere piano piano tutte le monete che sono riuscito ad accivolare nel corso degli ultimi degli ultimi mesi a presto